... Innanzitutto vogliamo noi di Gas ringraziare Venice Fashion Week per averci dato l'opportunità di presentare attraverso questa serata, questo evento tutto dedicato alla sostenibilità, il nostro progetto Eco-Friendly ETIX non è solo una capsula eco-sostenibile ma è un nuovo modo di fare impresa e cultura è un progetto che abbraccia il mondo dell'eco-sostenibilità Grazie a tutti